Mi chiamo Giulia e sono una tiratrice di pistola. Il nostro sport è difficile perché non è una questione solo di alzare il braccio ma è una questione di testa. Ci comanda perché se quel giorno non abbiamo i pensieri altrove i colpi non vanno dove vogliamo noi perché la nostra testa comanda il gesto. Quando mi alleno ho sempre una routine, prendo sempre le mie cose e le metto sempre nello stesso punto perché questa cosa la faccio anche in gara. Inizio, metto le cuffie e dal momento in cui metto le cuffie mi isolo dalle altre persone che ci sono dentro al poligono. Durante la settimana mi alleno 3-4 volte nei quali sparo 100-110 colpi. Sparo più colpi della gara perché voglio prepararmi fisicamente, mentalmente e cerco di crearmi negli allenamenti delle condizioni di gara. Il nostro sport non viene paragonato molto agli altri sport perché dicono che noi non ci alleniamo anche fisicamente perché ci basta tenere sulla pistola ma in realtà anche noi ci alleniamo fisicamente perché serve molto equilibrio per rimanere in punteria. Un buon equilibrio me le dà la stabilità delle gambe. Infatti ci mettiamo in una posizione generalmente con i piedi paralleli in modo da impedire l'oscillazione del nostro corpo. Nel tiro con la pistola non basta avere solo talento ma serve anche un duro allenamento per poter raggiungere i propri obiettivi. Il movimento che facciamo con il braccio è un movimento che richiede la forza fisica perché dobbiamo rimanere in apnea per un tot di secondi che noi rimaniamo in punteria quindi serve una forza nel braccio, non possiamo andare su rilassati. Durante la gara la nostra testa è molto importante perché quando noi spariamo non possiamo né esaltarci se un colpo va molto bene perché dobbiamo sempre rimanere concentrati quindi giocarcela fino all'ultimo colpo. Qualora io partecipassi ai giochi olimpici la medaglia sarebbe un grandissimo obiettivo raggiunto però appunto voglio rimanere sul lavoro che devo fare per raggiungerla.